In questo portabagagli trovammo una copia di un settimanale, un mezz'elegore, oggi. Settimanale oggi? Settimanale oggi. Era nella Ford Fiesta che è acquistata nell'82. Esatto, ed era aperto un articolo che era intitolato Le inquietudini dei fidanzati. Mancavano alcune pagine, poi le acquisimmo, però non trovammo nulla di particolarmente importante. Però questa rivista era aperta a quella pagina e parlava, c'era un prete, mi ricordo, che parlava, i rapporti di coppia, queste cose qui. E la cosa che mi colpì in particolare è che l'unica rivista che trovammo in quella macchina che era stata acquisita nell'82, 83, insomma non si ricordo esattamente, era datata agosto 68. Cioè era una rivista pubblicata nel 68. 68, adesso non ricordo se il primo agosto o il 3 agosto. Nel verbale date atto che si tratta del primo agosto 68. Il primo agosto 68. E agli atti del processo. L'agosto 68 ci ha sempre fatto squillare un campanello nella testa. Ora, non voglio dire... Non dica nulla, a lei le sembrò strano che in una macchina di un'ova, comunque acquistata nell'82, c'era una rivista. Oggi, al di là di quello che era il contenuto dell'articolo, e lo vedrà la corte, era datata prima agosto 68. Cioè lei dice, sequestro questo perché è strano che ci sia questa rivista. Poi lei dice il contenuto... Mi sembra abbastanza strano. Mi sembra abbastanza strano. E la sequestra. E inoltre dentro... Era intitolato Le inquietudini dei fidanzati. Le inquietudini dei fidanzati, non ricordo benissimo. Il titolo? No, sì. Probabilmente l'ho letto tutto, però non ricordo perfettamente. Non ha importanza, credo, in questo momento almeno. Per quanto riguarda invece l'abitacolo, troviamo dentro l'abitacolo un'agendina, chiamiamola così, ecco, su cui era segnato il chilometraggio. Cioè un'agendina, mi scusi, un'agendina personale... Un'agendina? Un'agendina per annotazioni, insomma, di... Un'agendina con le date, di quelle annuali o un blocchetto? Ma mi pare un blocchettino, insomma. Qui viene indicata l'agendina gialla tipo tacquino... Sì, ecco, tipo tacquino. Con scritto sopra note spacciani, dice lei. Sì, ecco, esatto. E cosa c'era su questa agendina? Ebbè, quello che mi colpisce era, per l'appunto, indicato il chilometraggio Mercato Alevicchio. Lei dice, sull'ultima pagina è indicato il chilometraggio andata e ritorno... Esatto. ...da Vicchio a Mercatale per chilometri 132. Esatto. Si dice questa volta, l'altra volta era 134, qui 132. Vabbè, riprende un attimino quello che si fa. Cioè il discorso è sostanziale, nel senso che una persona che dice di essere estanziale, di aver radici al suo, di non saper guidare la macchina, insomma, è bene o male, i 132 chilometri sono un percorso piuttosto lungo. Ma lei la colpì, ovviamente, il fatto che era vicchio, con Mercatale. Mi colpì il fatto che era vicchio, ovviamente. Eh. Però, oddio, mi colpì... Va bene, e quindi fu sequestrato. E fu sequestrato anche questo secondo biglietto. E poi... Prego. Per caso sequestrassi una torcia cromata marca su questo... Sì, una torcia... c'era una torcia... una torcia elettrica, non era la sola. Ne avevamo trovato un'altra anche in casa. Poi sequestreremmo anche una sottoveste. Una sottoveste usata per avvolgere la pistola. La pistola... Come la pistola? Si spieghi. Usata per avvolgere la pistola giocattolo. Ecco. Sul fatto che quella pistola fosse un giocattolo non avevamo nessun dubbio. Ecco. Però nulla vietava al limite di pensare che dentro quello straccio ci potesse essere stata avvolta un'altra pistola. è che la successiva... Voi sequestraste questo straccio e nessuno... Sì, tanto che fu disposta poi successivamente anche una perizia per vedere se comparivano gli elementi chimici. E non ci sono risultati utili per l'indagine. Ma diciamo che gli elementi... Gli elementi residui dello sparo non sono così caratteristici da essere distinguibili facilmente da quelli di uno sparo. Pistola salve e pistola... Esatto. Quindi ci sono gli elementi ma... L'unico elemento nuovo, almeno per quanto ricordo io, che compariva in quel tipo di cartucce che noi andavamo... Che erano stati utilizzati nell'ubicemicidi, era il vetro, ma quindi assolutamente non aveva nessuna importanza. Prego. Cos'altro trovaste? Io leggo, per ricordarglielo, al punto 9, nel magazzino vicino alla legnaia di Via Sonnino trovaste un binocolo nero di marca e modello Optimatic. Lo ricordate? Sì, troviamo... Questo era nel magazzino. Trovamo un binocolo perché... Era efficiente questo binocolo? Sì, 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 come no. Come no? Funzionava benissimo. Poi lei dice, punto 10, se ce l'ha presente, nel cassettone della camera da letto di Piazza del Popolo. Sì, dunque, nel primo cassetto, nel primo cassetto del cassettone della camera da letto di Piazza del Popolo c'era il portafoglio o un portafoglio di Pacciani con dentro delle carte. E' in quel portafoglio che noi troviamo l'assegnino pubblicitario Euronova sul cui retro era scritto quel numero di targa e un'annotazione coppia. Coppia Firenze. Quindi questo biglietto che noi abbiamo già visto qua e sul quale due testi ci hanno già riferito, lei lo trovò nel portafoglio che il Pacciani aveva, quando era evidentemente in carcere, lasciato in casa e era in questo cassettone. Esatto. C'erano altri fogli in questo portafoglio, era vuoto e c'era solo questo biglietto. Mi pare che ci fosse, non vorrei sbagliarmi, ma lei ha modo di controllare se è una mia impressione. Ma mi pare che ci fosse anche l'indirizzo del telefono di Faggi. Esatto. Sempre nel cassetto in camera da letto lei descrive di nuovo al punto 13, dice foglietto, blocco notes, con il seguente indirizzo scritto a Biro Blu. Rappresentante Ceramiche, Roma 11A, Via del Lago, telefono Faggi Giovanni Calenzano. Quindi se non capisco male, a quel momento lì sono tre i riferimenti che voi avete trovato relativi a Faggi. I due, le due, lettera, una cartolina e questo biglietto che è nel cassettone invece. Dico bene? Sì, no, io credo che fossero di più i riferimenti a Faggi perché noi perquisimo anche il Faggi. No, 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 ora qui stiamo parlando della casa di Pacciani. Sì, sì, sì. A quel momento i riferimenti a Faggi che lui conserva sono questi tre. Esatto, almeno quelli che io ricordo. Senta una cosa, lei quindi ha effettuato queste perquisizioni. Fu effettuata una perquisizione anche alla carcere, prima della scarcerazione, cioè il giorno 6 della carcerazione, quindi il 6 dicembre. No, sì, non perquisimo la cella, ma lui uscì con un sacco di plastica in cui aveva messo tutti i suoi averi. Ecco, la cella era pulita, questo ci accertammo che così fu. E voi controllaste perquisendolo perché c'è un verbale questo... Eravamo il tenente, credo, San Giuliano, maresciallo d'Aidone del Ross e poi c'ero io. E controllammo queste carte... Avete fatto un verbale di sequestro in quella data in cui sequestrate ben 24, 30 documenti. Lei ricorda, vuole rivedere il verbale se c'è qualcosa che le viene in mente? Le posso dire sostanzialmente quelle che sono le cose che io ricordo... Sono tutte in atti sequestrate? Piuttosto bene. Che ricordo bene perché mi colpirono. Uno era un articolo, un ritaglio, un articolo di giornale della Nazione, era uno flash dal mondo, cose del genere, brevi dal mondo, in cui lui aveva evidenziato un episodio accaduto in Lituania di uno che era stato arrestato perché aveva cucinato e mangiato il seno della moglie. Figuriamoci. Nello stesso articolo c'era anche una traccia della vicenda di Jeffrey Dahmer, il cannibale di Milwaukee. E conservava queste cose? Insomma questa cosa era stata conservata. Senza una cosa, vedo che in questo elenco si leggono comunque la maggior parte sono ritagli di giornali relativi alle indagini sul conto del mondo. Sì, beh, voglio dire che questo era abbastanza spiegabile. Oltretutto nel frattempo si era messo a scriverli un giornalista, non so se è qui presente in aula, che gli aveva spesito un po' di ritaglio. E lui gli dice, ecco, sento una cosa, c'era invece un libretto relativo ai disegni, ricorda che anche questo è... Sì, sì, c'erano i suoi disegni. Che tipo di disegni erano? Fra le altre cose c'erano appunto i disegni delle armi e della pistola, no, c'erano anche disegni, poesie, perché c'erano persone estremamente versatili, molto bravo, insomma, sia nel comporre che nel disegnare. Aveva fatto questi disegni spesso commentati con una poesia o con un cenno. E questi li acquisì. Poi, un'altra cosa, mi ricordo che c'era una foto, foto ritagliata da una rivista, immagino, di una donna che anche in quel caso ne era stata evidenziata il seno e la vagina con una penna. Ah, a proposito, ecco, di questa sua abitudine di evidenziare il seno e la vagina delle donne, noi l'avevamo notato anche un'altra volta. L'avevamo notata sfogliando quelle riviste pornografiche che avevamo trovato. C'era un particolare punto, una particolare tranche di quella rivista che trattava dell'eros catastrofico. Quello, una volta che l'avevamo guardata con più attenzione, ci aveva colpito perché illustrava, io non so che tipo di erotismo volesse indicare, però illustrava donne, ragazze nude, nude, seminude, insomma, in posizioni che ne riproducevano la morte. Ho delle fotografie con me di queste che forse non è irrilevante che io mostri. Sono agli atti queste riviste sequestrate? Sono agli atti, sono state sequestrate. Se riteniamo sono quelle, sì, vediamole pure. Credo di capire quali siano. Le possiamo mostrare, dottore Grazzi. Presidente, io mi oppongo a queste dichiarazioni del teste perché il teste sta facendo una ricostruzione mnemonica mentale di quello che ha sequestrato. No, quello che ha sequestrato, ha sequestrato. E sono qua. Perché l'ha colpito, ci interessa poco. Ora ci sta dicendo cosa ha anche sequestrato. Io credo che non possa deporre su queste... Il processo no. Mi scusi, c'è un 194, l'ultimo comma del codice di procedura penale, punto e basta. Lo rispettiamo o non lo rispettiamo? Sto cercando di mettere a fuoco il procedimento logico che mi ha portato a sequestrare quelle cose. Ed è un procedimento che ha una sua logica che può essere condivisa o non, ma è... Comunque il quadro del Botticelli era in casa di Pacciani. Era in casa di Pacciani, in mezzo... E mi oppongo, sto spiegando. Dottor Perugini, avvocato. Dottor Perugini, ora però lei qui si sta facendo, capito, una requisitoria. Ok, non voglio fare una requisitoria. Sia pure implici. Capito? Ha capito qual è il limite? È un po' delicato, io mi rendo conto. Lei ricostruisce il procedimento logico. Sì. Però dobbiamo stare attenti a non travalicare, altrimenti... Sì, sì, no. Lei diventa, senza volerlo minimamente, un pubblico ministero. No, io non voglio esserlo. E anticipa i tempi. No, non voglio esserlo. Però, allora, lei ha fatto questo collegamento tra queste due foto e una terza. E una terza. E lei ci vuole mostrare, basta, poi, capito. C'è la mostra. C'è la mostri. Non riprendiamo questa foto, perché sappiamo già qual è, naturalmente, in atti. Senza nessun commento. Lei dice... Questa foto non va ripresa, questa foto, eh. Non va ripresa in nessuna maniera. perché rappresenta, ovviamente, la foto di un cadavere. È già stato accostato anche in atti. Sì, 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 l'abbiamo già mostrato. Dottore, io avrei due ultime domande su queste perquisizioni. Possiamo togliere queste foto? Che terminano con quella del 6 dicembre 1991, cioè prima della scarcerazione dell'imputato per i fatti per i quali scontò condanna relativi alle figlie. La prima domanda è questa. Mi rendo conto che fare questa domanda senza il filmato che lei aveva preparato è un po' più difficile, ma gliela faccio uguale per vedere se lei riesce a spiegarsi. Lei, voi avete detto, lei ha detto, che avete fatto una perquisizione agli appartamenti e per quanto riguarda via Sonnino che c'era anche un orto, un orto alimentare, se non ho capito male, lei l'ha chiamato. Lei ricorda se questo orto che lei vide nel 90 fu oggetto di perquisizione? Nel 90? Sì. Fu oggetto di ricerca con i cercamine. Nel modo che lei già... Con i cercamine. Ricordo piuttosto distintamente che il maresciallo Frillici ed io prendemmo anche una pala per togliere gli strati superficiali del terreno... Nell'orto. ...dove il cercamine aveva segnalato qualcosa. Ma fu un'attività che si limitò a pochissimi minuti. E mi ricordo che il cercamine suonò in corrispondenza del fondo dell'orto, quello adiacente, quasi adiacente, con la rete di... con un viottolo e una palazzina, il cui è ingresso è su via... di Falciani o nessun ricordo, comunque, insomma. Era il fondo... Perché probabilmente là c'era un sacco di metalli... Era il fondo allora, sì, poi quando facevamo la perquisizione successivamente abbiamo trovato quintali di metallo. Ricorda se in quell'occasione, cioè 1990, vi erano quei pali portavite, ecco, che poi furono oggetto di esame più accurato nel 92. Si ricorda se erano nella stessa posizione in cui li avete trovati nel 92, se erano stati spostati? O comunque se hanno... se sono stati oggetto di attenzione da parte vostra, se delimitavano qualcosa, come erano messi? Se erano nella stessa identica posizione di come li avete trovati dopo? Adesso lei mi chiede una cosa un po' particolare. Io posso dire questo. Cosa ricorda lei, ovviamente? Io ricordo che quei pali, che erano pali di cemento armato di sostegno, usati per sostenere le viti, i fili di ferro dei filari, erano, a parte quelli che sostenevano le viti che erano nell'orto, erano usati come delimitazione del, in particolare, di un sentierino interno all'otto, un viottolo, un viottolo interno all'otto. Il viottolo comunque, questo interno era con interno terra? Sì, ho provato a ricordare anche perché, alla luce di quanto poi ritrovamo successivamente, mi sono rivisto le immagini e mi sembra di poter dire che i paletti, questi paletti che erano seminterrati nell'orto e usati come delimitazione, nel 90, erano nella stessa posizione di quando noi procediamo poi, mi pare di sì. La netta percezione, la netta percezione, giurare non posso, però do la sensazione che sotto quel coperchio c'era una busta di plastica bianca, bianca trasparente, sono immagini che richiamano la memoria. Cosa c'è in questa busta? Con dentro dei documenti, dei fogli, dei documenti, fra cui c'era anche il blocco, e quasi certamente c'era una trossa da bagno, una trossa da bagno grigia mi pare, con dei disegnini, all'interno della quale c'era un sacco di roba, penne, qualche matita e un po' contenente dei monili della bigiotteria. Lei questi oggetti li ha memorizzati così ora, ma non sequestro nulla, nei verbali non c'è scritto niente? No, non sequestra nulla. Non gli dette alcuna rilevanza dal punto di vista dell'indagine? No, devo dire che mi ritornarono in mente questi oggetti soltanto a giugno del 92. Addirittura dopo la... Perché al termine di quella lunga perquisizione, nella quale ci eravamo concentrati, in modo quasi maniacale direi, sulla ricerca di armi, sulla ricerca di... cioè la pistola, noi cercavamo la pistola. Questo era un dato... Lo dice il provvedimento, quindi... Non avevamo preso però, secondo me, in sufficiente considerazione, l'ipotesi che l'assassino potesse aver, probabilmente aveva, sottratto dai luoghi del delitto altri oggetti. Quindi cercaste oggetti diversi dalla pistola? Cercammo oggetti che apparissero inconguri con il genere di cose che teneva Pacciani. Pacciani aveva sempre detto che non si era mai mosso di lì e quindi indubbiamente trovare degli oggetti che lasciavano pensare a dei viaggi all'estero o comunque richiamavano. Quindi solo nel giugno 92 pensaste di cercare oggetti simili. E lei le venne in mente questa sensazione di questo blocco del 91? Che non l'ho capito male? Diciamo che... Nella sua mente... Diciamo che in quella circostanza, quel ricordo, quell'immagine che io avevo in mente, non solo del blocco in realtà, perché avevo in mente delle microchor, delle cartoline, microcartoline, tipo quelle cartoline turistiche, no? Ecco, i dizionariati, insomma, mi vennero... mi tornarono in mente, perché... Senta un'ultima cosa. La loro congruità. Rimanendo al 90-91, dato che negli atti non c'è nulla, e questo cassettone che lei esaminò dove le sembrò di aver visto, o lei ora ha questo ricordo del blocco, fu esaminato solo da lei o anche da qualche altro degli operatori di polizia giudiziaria? No, beh, certamente... Anche da lei? Diciamo... Diciamo che tutto ciò che abbiamo sequestrato, che abbiamo controllato in quella circostanza, è passato per le mani di più persone. Però le decisioni su cosa sequestrare le prese lei o... Le prese io. Ecco, in via Sonnino dove c'era questo cassettone e che ha generato ora in lei questo ricordo, c'erano anche altri operatori oppure vi divideste i compiti? In tutte le abitazioni andasti tutti a rotazione? No. Se lo ricorda? No, noi facevamo... noi seguivamo il criterio di perquisire un luogo per volta. Un po' è una questione di opportunità perché... Comunque lei è stato in tutti e tre i luoghi, i due appartamenti di Via Sonnino e quello di Piazza del Popolo. Sì, esatto. Quindi così può essere avvenuto anche per gli altri. Esatto. Non ho altre domande? Prego, volevo soltanto fare una questione. Il discorso carta, carta in senso generico, il discorso del blocco, delle cartoline, delle dizioni, mi venne in mente collegato a un aspetto. Si era sempre detto e si è detto e poi l'esperienza insegna che c'è da parte di un certo tipo di autore di certi delitti la tendenza a conservare... E' un po' per te, sto spiegando... E' una sua impressione questa. Non può essere portata qui. Non vale, lasciamo fare le considerazioni. Nessun'altra domanda, Presidente. Signori Avvocati partecivili, Avvocato Colau. Dottore, scusi, può precisarci di che colore era la Ford Fiesta del Pacciani? Un bianco, un bianco sporco, insomma, bianco, bianco con, mi pare, delle... non conosco il termine tecnico, sono delle strisce di diverso colore, modanature, ecco che cosa... E le modanature di che colore erano? Non me lo ricordo. Vabbè, è questo, è questo, non possiamo vedere in qualsiasi momento. E poi c'è la foto. Ma, appunto, non bianchi, forse di colore diverso. Mi sembra di ricordare che fossero di colore diverso, ma se dovessi impegnarmi c'è qualcosa... No, ecco, credo che fossero di colore diverso, mi sembra un beige, un maruncio, un colore diverso. E si notavano, erano appariscenti? E lei mi chiede qualcosa? Bene. Scusi, dottore, va bene. Probabilmente si notano perché... Dottore, lei ha detto che acquisì successivamente al primo sequestro anche altri capi di sequestro, fra questi il quadro, se non sbaglio, no? Sì. Lei naturalmente esaminò il quadro, se no non l'avrebbe fatto sottoporre al sequestro, chiedendo al PM di sequestrarlo, no? Quindi lo riteneva utile ai fatti oggetto dell'imputazione. Sì, lo chiedenevo che fosse importante. Ecco. Ritengo questo. In basso, in basso, fra i due fiori, ci sono delle croci. Queste crocette sono evidenti o no? E quante sono? Sono... Fiori, croci, tre sequestri. Che dici? Che dici? Avvocato Colau, abbiamo il quadro, di cui parleremo, direi, al momento opportuno, no? Lo portiamo in aula, lo mettiamo su quel cavalletto, ce lo guardiamo. La mia domanda mi sembrava, poiché è oggetto dell'imputazione, e poiché questo quadro, diciamo, porta una data, no? Sì. Eh, che data porta? 10 aprile 1985. 10 aprile 1985, il che vuol dire che è antecedente all'omicidio dei francesi, di pochi mesi, no? Sì. Che è avvenuto poi nel settembre dell'85. Sì. Bene, allora lei si ricorda quante crocette c'erano o no? Sei. Sei crocette. E che supposizione, cioè... Erano sei croci, va bene? Sei croci, belle chiare, nitidi, nitide. Una, se non ricordo male, era nascosta in mezzo alle foglie o ai rametti di quelle due piantine, una o due, era uno scolo, ma sì, si riconoscono facilmente, sì. Fate a penna. Va bene, grazie. Un penna diverso. Mi scusi ancora, lei ha detto che seguitò anche una fotografia del Pacciani che aveva una pistola machine. Sì, era una foto semibruffata. Semibruffata. E naturalmente, cioè, a che cosa fu ricollegata questa foto? Perché è chiaro, non poteva girare andando a caccia con una pistola machine. Ma, a me, cioè, mi serviva per capire che il Pacciani aveva in passato maneggiato armi. Quando era giovane, altrimenti il Pacciani è stato partigiano, ha avuto anche, per quel che mi risulta, salvò anche la vita del suo primo avvocato, quindi... E ha certo anche in che zona il Pacciani aveva svolto questa sua attività di partigiano? Monteggiovi, quelle zone lì, Monteggiovi e Mugello, insomma, per quanto rammento, ma lui potrebbe essere molto più preciso di me. Credo che abbia fatto anche dei memoriali su quello. Senta, scusi, un'ultima domanda. Lei si ricorda, se Pagliatti trovò un foglio scritto di mano, si ricorda, se c'era un foglio, scritto di pugno del Pacciani, con la parola Repubblica con una B? Ah, più d'uno, più d'uno, sì. Più d'uno, quasi sempre era scritta con una B. Grazie, non altre domande. Avvocato Santoni Franchetti. Presidente, chiedo scusa, io dovrei fare una domanda alla Corte, direi. All'udienza del 23 maggio il Pubblico Ministero interruppe, pagina 88, l'interrogatorio del Dottor Perugini, dicendo Certe domande di sintesi le faremo successivamente dopo aver sentito i verbali e le testimonianze. Vorrei distinguere i due momenti. Ecco, questa difesa di parte civile si riserverebbe quindi di fare certe domande, non lo disse l'altra volta, ho saputo ora dal Pubblico Ministero che mercoledì vi sarà un altro interrogatorio di questo test, alla fine dell'ultima interroga. Ecco, questa era una premessa che volevamo fare... Ma quale è? Perugini. Eh? Il Dottor Perugini. Le faremo certe domande di sintesi alla fine, ripigliando proprio quello che il PM aveva detto il 23 maggio. Soltanto alcune precisazioni oggi. Lei ha rinvenuto una rivista che si chiama Eros Catastrofico, qualche cosa del... No. Non so se era una rivista, era il titolo di un articolo. Era il titolo di... era il titolo di un gruppo di articoli, di foto. Di quando è questo materiale? Era datato? Era del 78. Sì, la domanda è... Sì, era del 78. Era del 78. Si ricorda che forse... ha trovato anche materiale vario di carattere omosessuale? O comunque non particolarmente, esclusivamente, eterosessuale? No, 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 no. Tutto materiale pornografico e rigorosamente eterosessuale. Rigorosamente eterosessuale. Sì. Nemmeno a carattere misto? No. Benissimo. Nessun'altra domanda, Presidente? Altre domande, signor Evoca di Corte Civile? Presidente, io chiedevo cortesemente di sapere l'orientamento della Corte in ordine ai lavori. Cioè, se si va avanti stasera? Cioè, certo, oggi è pomeriggio. Ecco, perché io avrei da parlare per tre ore con il dottor Perugini. Vieni. I Pacciani, magari vogliamo farvi... Sono... Eh, sono l'1,40. Vogliamo... I Pacciani voleva dire qualche cosa? Sì, casca tutto. In maniera naturalmente giusta, vero? Sì. Mi scusi, signor Presidente. Volevo precisare, qui, biglietto e si riferisce a chilometraggio mercatale vicchio. Era un'annotazione che mi fece fare il lecce maresciato dei aravenieri, Francesco Simonetti, per vedere il chilometraggio che erano. Perché me lo domandò, disse, quanti chilometri sono andando là? Ho paura e non mi basti la benzina. Ma, e disse, non lo so, mi ha anche chi chilometri sono. Si fa presto a vedere, disse, annota i contachilometri. E annotai i contachilometri della sua macchina, il da 500 che ci portò. Si andò a una festa a trovare la mia sorella, la sposata, non so se mi ricordo se ero in compleanno di minipoti, insomma, a fare il genere. E mi ricordo ora, se non sbaglio, insomma, se la mia mente mi tradisce, 148 chilometri andata e ritorno. Poi in fondo si trovò, appunto, aperto anche il distributore. Eh, tutto qui. Ora, e fa un romanzo, non so perché. Il fatto dei giornali, mi dice il signor dottor Perugini, e sui giornali li avevo in cella, ma dei ragazzi, i compagni miei di Sventura, che erano in cella mia, che erano 6-7 persone, andavano via io, loro andarono via prima di me. Questi giornali venivano messi in uno stipendo per levarne un foglio di giorno, riviste, fonografie, giornali. I comprati ragazzi, erano giovani, e si mette all'inseggio della spazzatura, non si attaccasse la mondizza, diciamo, si corrispette parlando. E io venne via, presi la mirova. Il signor dottor Perugini venne lassù a trovarmi, buongiorno, buonasera, insomma, si stette un po' a patta insieme, e mi portò questi giornali. Dice lei, questi li abbiamo trovati, c'è la sua, la li aveva lasciati. No, guardi, disse, io non sono miei questi, la mia roba l'ho presa. E lì potrebbero servire per accendere il fuoco, questo sì, io. E lo ringraziai pure, io, senza nessuna malizia. Fono buttati in cantina e ripresi alla perquisizione dopo due, tre giorni seguenti. Tutto questo, questa è la verità. Io ho detto tutte le parole, il sacrosante è la verità. Se c'è una parola che non corrisponda a quello detto io, pago 100.000 lire ogni parola. Questa è la verità giurata davanti alla giuridica, davanti a me. Sono soldi, eh, facciami. Senta, ma lei non voleva il gratuito patrocino. E allora come fa a pagare 100.000 lire ogni parola? Quindi, al di là di questo. No, 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 noi, quello che ho detto, corrisponde a tutta la verità. Posso? Posso dire? Mi scusi, mi scusi. Scusi, signor Facciani, i suoi ricordi sono evidentemente sbagliati, ma in ogni caso del fatto che le cose non siano andate così, abbiamo anche altri elementi di prova. Va bene, comunque, questo lo diremo poi noi. Che sono, senta Facciani, semmai lei rifletta sul fatto che sembra che questo appunto vicchio mercatale sia stato fatto un paio di volte, non una volta. dici due volte per questo appunto, dici uno 147, uno 147. In due luoghi diversi. Quello l'avevo appuntato dopo e mi ricordavo, ma quella è di primo. Quello è stato di primo, mi sembra, 148 chilometri. Poi ha capito, la mente si sfugge a volte, la rossina non si, ma quello è di primo. Signor Presidente, mi consente un'osservazione? Perché a questo punto, devo dirlo, i nostri incontri facciani sono intercettati. Ciò che io ho detto a lei e ciò che lei ha detto a me è conservato su una cassetta. E noi abbiamo. Quindi chiedo, quindi chiedo, quindi chiedo, quindi chiedo che queste, quindi chiedo che queste, no, il PM. Quindi chiedo che queste cassette siano sentite per verificare la falsità delle affermazioni di Pacciani. E poi mi consente l'avvocato, io questo voglio dirlo, come investigatore accetto qualsiasi tipo di osservazione, commento e critica alla mia capacità professionale. Ma per quanto riguarda la mia integrità professionale e l'integrità degli accertamenti condotti da me e dai miei uomini, non accetto questo tipo di osservazioni. Quindi mi consenta. Mi consenta, la prego di credermi, è estremamente, io ho vent'anni di professione, anzi per un po'. Siamo per i ventitré, di professione alle spalle non ho mai avuto una lagnanza. Per quanto riguarda i testimoni che si sono avvicendati qui, se c'è qualche dubbio sulla correttezza con la quale sono stati condotti gli interrogatori, basta chiedergli sul punto. Però sulla mia correttezza professionale non accetto osservazioni, illazioni e dubbi. Mia e dei miei uomini. Allora, dato che lei mi ha chiamato in causa, io le ricordo quello che le contestai a suo tempo, quando lei disse al pubblico ministero, il quale in quell'occasione, soltanto allora, mandò l'informazione di garanzia, che addirittura quella lettera anonima, quella del 1985, indicava Pacciani come assassino. L'ha scritto lei, esattamente a pagina 1. Quindi questa è una correttezza che lei se la deve ricordare. Signori, basta, 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 non metto l'indicina aula, dottor Perugini, silenzio. L'abbiamo già chiarito, l'udienza è sospesa, è rinviata in prosecuzione alle ore, facciamole 15.30, va bene signori? A quel punto la presa farà le domande che crede al testo. Allora, avvocato più avanti, prego. Dottor Perugini, io vorrei sapere se nella perquisizione del 1990, di cui non c'è traccia negli atti, furono rinvenuti quegli oggetti di cui ha i verbali delle perquisizioni nel ma... se c'è verbale c'è traccia di questa perquisizione... Facciamo la domanda... Ho detto... Avvocato, lei funga la domanda in maniera precisica. Sono sfortunato... Nella perquisizione di cui non c'è traccia... se i verbali del 1992 maggio-giugno rispondono e riportano quegli oggetti sequestrati poi nel 1992 e visti anche nel 1990. Visti. Da voi. Mi puoi ripetere qual è l'oggetto della domanda? Se quegli oggetti... quali oggetti? Di cui ai verbali del maggio e giugno 1992 blocco schizzen. Ah, ecco. Portasapone. Poi altri oggetti di bigiotteria sono stati individuati prima che venisse fatto quel verbale cioè in un altro anno, nel 90. Questa è la domanda. Allora, nel 1990 la nostra attenzione non si focalizzò su tutti gli oggetti presenti in casa di Pacciani. Io non ho memoria di aver prestato a questi oggetti che poi successivamente notammo io notai nel dicembre del 91 nell'ambito di una perquisizione con più ampio obiettivo però debbo onestamente dire che non ho memoria certa di averli cioè non richiamarono la mia attenzione. Per essere onesto e corretto debbo dire non può darsi anche che mi saranno passati per le mani ma non non ci fece attenzione non particolarmente. Ma in realtà su quegli oggetti che io invece notai nel dicembre 91 che notai nell'aprile maggio 92 che sequestrai il 2 giugno e il 13 giugno 92 nel 90 non richiamarono la mia attenzione. Vorrei sapere un'altra... Quindi non rammento l'ubicazione non... ecco certamente avvocato la quantità di oggetti la quantità di carte la quantità di cose che erano presenti nelle tre abitazioni e tre pertinenze di Pacciani erano di tale mole per cui per quanto io abbia una discreta memoria mi è difficile oggi ricordare tutto. Se non c'è traccia negli atti della perquisizione del 1990 vuol dire che in quella circostanza non furono presi in considerazione. dunque la perquisizione tutte le perquisizioni e tutti gli interventi della polizia e dei carabinieri furono fatti da determinate persone tutta la squadra della SAM c'è qualcuno della squadra SAM che era stato designato a perquisire ad intervenire che a un certo punto non è intervenuto cioè voi eravate dottor Perugini Riccardo Lampè rispettore assistente Alessandro Venturini Mario Spina Callisto di Genova Paolo De Simone Nunziatina Mantini Paola Baghino Lidia Scirocchi Giampiero Mella Giuseppe Pizzo Capitano Scriccia Arturo Minoliti Maresciallo Pietro Frillici Allora faccio delle previsazioni innanzitutto l'elenco di persone che lei ha finora detto non sono soltanto coloro che eseguirono la perquisizione quelli che eseguirono le perquisizioni sono ben individuati Pizzo Eccolo Giacomo che la l'agente di polizia Scirocchi l'agente di polizia Nunziatina Mantini l'agente di polizia Paola Baghino avevano diverse funzioni che erano quelle di osservazione e di intercettazione quindi non comparvero nelle perquisizioni l'agente di polizia Scirocchi comparve partecipò alla perquisizione del 1990 essendo membro effettivo della SAM in organico della SAM tutti gli altri che ho detto prima no per quanto riguarda i carabinieri anche loro quelli che lei ha citato parteciparono alla perquisizione di cui lei fa riferimento e che certamente è quella dal 27 aprile all'8 maggio sbagli? Sì è questo Allora il nella perquisizione dell'11 giugno 1990 alla perquisizione partecipano oltre me l'ispettore Sirico partecipano gli altri allora in forza alla SAM non partecipa per esempio l'ispettore Lamperi che ancora non era in forza alla SAM partecipa il capitano Scriccia del ROS e partecipa il maresciallo Frillici del ROS questi sono i nomi che lei troverà nel dicembre 1991 alla perquisizione partecipano soltanto gli esponenti della SAM quindi oltre me ci sta l'ispettore Lamperi che nel frattempo è stato assunto in forza e ci stanno gli altri che lei ha indicato in tutte le altre perquisizioni ad esclusione di quelli che le ho detto prima tutti quanti hanno partecipato premetto che tanto nel 90 quanto nel 91 quanto nel 92 le perquisizioni vengono condotte secondo un determinato criterio io non ho capito la sua domanda cosa mi era di evidenziare ma le anticipo subito che noi cercammo tutti insieme per luoghi ognuno ci fu una divisione di incarichi che io feci prima della perquisizione attribuendo ad ognuno il compito di cercare determinate cose chi deve cercare documenti chi doveva cercare elementi o oggetti d'altra natura metalli e così via c'è qualcuno che doveva cercare metalli e che non è stato poi chiamato alla perquisizione perché si è rifiutato qualcuno che doveva cercare metalli e che non è stato chiamato nessuno si è mai rifiutato prendo atto della risposta un'altra cosa nel 1991 6 dicembre mentre eravamo in attesa dell'uscita di Pacciani dal carcere ricordiamo entrambi bleffando anche l'avvocato fioravanti perché altra strada e è stato bloccato Pacciani all'uscita tornando tornato in cella insieme a voi è stato perquisito Pacciani nella persona e la cella sono stati portati via svariati materiali di cui al verbale c'è un verbale di prescrizione parte di questi materiali circa 8 o 10 giorni dopo poi le posso dire anche furono restituiti a Pacciani allora mi permetta di fare alcuni aggiustamenti alla sua versione devi fare solo le risposte sì per favore io rispondo facendo gli aggiustamenti nel senso che non tornammo in cella con il Pacciani il Pacciani lo aspettammo all'uscita il Pacciani aveva con sé un sacco un sacco grande uno piccolo di effetti personali e di carte ci fidammo del fatto che gli agenti di custodia ci avevano detto che la fella era totalmente vuota e pulita la perquisizione quindi avvenne prima dell'uscita nella stanzina che è prima dell'uscita in quella circostanza e questo anche per memoria dell'imputato non sequestrammo riviste che non c'erano a parte una pagina di rivista che era quella riproducente una donna con il seno e la vagina sottolineate ma sequestrammo soltanto documentazione c'erano memoriali c'erano disegni c'era carta scritta da lui articoli di giornale fra cui quello di cui ho parlato prima per quanto riguarda la seconda parte della sua domanda e cioè se successivamente fu restituito di quella roba parte alpacciani dico no alpacciani nei giorni successivi io che lo andai a trovare nella sua casa di via sognino 30 su sua richiesta portai una foto della scientifica una riproduzione del quadro il sogno di fatascienza e alcune fotocopie di disegni e poesie che le avevamo nella circostanza sequestrato fotocopie di disegni e poesie ecco per caso dopo che lei da solo tornò da Pacciani sì e Pacciani dice perché mezz'ora dopo c'era anche il sottoscritto di avergli riportato un pacco di giornali legati con uno spago avendogli detto ci può accendere il fuoco ecco vorrei sapere se questo risponde a verità è falso e le dico anche una cosa le riviste pornografiche che noi abbiamo discusso questa mattina le troviamo in casa di Pacciani esattamente nel mese di giugno l'11 giugno 1990 in quel cassetto di cui parlavo epoca in cui Pacciani era ancora in carcere quelle riviste furono sequestrate per quanto riguarda i giornali ecco adesso che lei mi ci ha fatto pensare nel 1990 fra i sacchi di cose che lui deteneva ed esattamente nello sgabbuzzino alla sinistra del corridoio c'erano numerosissimi giornali la ricerca fu fatta lei rammenterà che la lettera alla dottoressa Silvia della Monica fu scritto l'indirizzo con lettere ritagliate da riviste e giornali fu controllato il materiale i quotidiani e le riviste furono controllate in quella circostanza e notammo che da alcuni credo che sia citato negli atti che da alcuni giornali alcune edizioni degli anni passati mancavano degli articoli di giornale cercammo che cosa riguardassero questi articoli di giornale scoprimmo che l'argomento era sempre il diciamo l'assassino delle coppiette noi non abbiamo mai portato al pacciani dei giornali per accendere il fuoco né per altri motivi mi risulta invece che lui li abbia ancora trovati in casa e qualche tempo dopo la scarcerazione quando già si era insediato in via Sonnino prese contatti con Don Cuba Don Cubattoli perché li venisse a portare via insieme ad altre cose fiaschi pezzi di 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 una motoretta ecco questa è la mia memoria erano soltanto damigiane oppure erano anche altri materiali quelli che credo che fossero anche altri fossero adesso non ricordo comunque voglio dire la cosa alla rilevanza che ha comunque lui parlando con Don Cuba chiese di portare che li portasse via un po' di roba ecco un po' di roba è un po' generico comunque lo chiede al suo assistito che cosa ha chiesto o a Don Cuba non c'è problemi è contattabile vivo ecco lei ha mai usato il metodo me ne guardi bene dal fare offese assolutamente ha mai usato il metodo di cercare il mostro o la direzione del mostro tramite qualche mago o maga Dio me ne scampi questa è un'indagine in cui non c'è spazio per maghi e stregoni avvocato mai col pendolino grazie a Dio è un non ne faccio un mio vanto ma vede essendo alla SAM avendo quindi la triste esperienza di essere funestato pressoché quotidianamente da segnalazioni di arcana provenienza comprese quelle che ci annunciavano prossime uccisioni del mostro ecco sono molto lieto di dire che non ci hanno mai azzeccato ma anche a prescindere da questo questa è un'investigazione che è stata condotta con i metodi convenzionali e i metodi convenzionali non lasciano spazio a a interventi di altra natura senta una cosa che poi ah scusi mi scusi che poi il suo assistito possa credere in in determinate in determinate entità ma quello è un altro discorso no 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 sono io non è il mio assistito sono io che sono un tutt'uno col mio assistito in quanto parte processuale va bene no niente mai che in questo no sono io non le riporto le voci controllate abbastanza bene di virgolettati di giornali abbastanza seri comunque di giornali? queste sono considerazioni di giornali? sono considerazioni si se avessi dovuto formarmi un'opinione su quanto scrivono i giornali sono cose che servono comunque ecco i pali di cemento quei paletti di cemento che dovevano essere adibiti a vigna ed erano per terra per delimitare uno stradello io vorrei sapere se voi quel paletto di cemento in cui rinveniste il proiettile la cartuccia o proiettile era rotto o è stato rotto da voi? chiedo scusa presidente solo scusi presidente mi sembra che il controesame verta su argomenti per il quale il PM ancora non ha fatto domande aveva spiegato stamattina che è così è avvenuto ci siamo fermati alla perquisizione forse lei non c'era ecco del 6 dicembre 91 comunque io ero l'esame del test è su questo non è ancora avvenuto per comodità di tutti naturalmente sì ma ero presente quando vi erano paletti portavite domanda del pubblico ministero domanda del pubblico ministero questa era la domanda e c'ero relativa al 90 era la mia domanda dottore si ricorda erano del pali la risposta pali di cemento armato che erano usati come delimitazioni di un viottolo i paletti che erano semi interrati nel 90 erano nella stessa posizione questa è la risposta io c'ero benissimo a questa a questa a questo argomento va bene andiamo avanti io chiedi qual è la domanda la domanda è questa il paletto di cemento su cui in cui è stato trovato il proiettile o la cartuccia era intero o spezzato io ricordo che quando i vigili del fuoco rimossero i paletti reggivite per cominciare a scavare il giardino l'orto chiamiamolo così uno dei paletti si spezzò o era già spezzato e comunque tirato fuori comparve in due pezzi me lo ricordo anche perché il perquisendo reagì molto male a questa come se gli avessimo rotto un vaso e finisse e quei due paletti come vennero fuori ecco se fu spezzato dai vigili del fuoco nel tirarlo fuori o se era già spezzato nel terreno e non se ne vedeva con la frattura questo non glielo posso dire comunque credo che la cosa sia facilmente accertabile vedendo la cassetta perché quelle operazioni furono filmate dall'inizio alla fine ecco un'altra domanda questa è la famosa trus da bagno sì e vicino alla trus da bagno lei ha detto questa mattina di aver trovato un portasapone no ho detto che l'ho trovato dentro dentro sì ecco siccome si è disquisito molto sul colore e sulla marca di questo portasapone lei come l'ha trovato che colore era e che marca aveva inciso era un portasapone chiaro dal coperchio chiaro in che senso chiaro un bianco era sporco un bianco sporco dal coperchio piuttosto elaborato e sul lato non sul lato sul bordo del coperchio c'era una bruciatura di sigaretta me ne ricordo mi ricordo bene del portasapone mi ricordo perché abbiamo fatto molti accertamenti su quel portasapone li abbiamo fatti in Italia li abbiamo fatti in Germania e la marca c'era iscritta in un circolo sotto la parola Deis Deis facciamo accertamenti anche alla camera di commercio di Colonia per vedere se potesse se quel marchio fosse stato non troviamo non siamo riusciti a trovare quel simbolo quel marchio di rispondi di rispondi con di rispondi Grazie a tutti